Fred Peat! Sì! Che stordita! Bianconeri del c***o! Oh, c'è che arroganza! Autografo? Autografo e passaggio? Hai il Green Pass? Seconda dose fatta stamattina! Sono su di giri! Allora, Bredino? Dove devi andare? Devo andare a Modena! Modena? Sì! Cioè, tu mi fermi qui in via Big Channel a Los Angeles perché io ti porto in auto a Modena! Ah, ma perché vatti tutti così? Non hai idea della serata che hanno organizzato il due sera! Storie che fanno ridere, riflettere ed emozionare e tutto questo ai giardini ducali! Aspetta... Quei giardini ducali? Sì? Cioè... È lì che vai? Ai giardini ducali? Aha! E con chi ci vai là? In che senso? Da sola? No? Con te? Cioè... Tu ed io potremmo andare insieme ai giardini ducali il due sera? Sì! Eh... Va bene, salta su dai mo! Cacchio dura sta portiera! Speriamo di non pigliare grandi nella Fidenza che c'ho l'auto d'epoca, sai? Thus celluli... Sì... Le ocché nelle Fini... Das exactamente fa! L'in загuviate! Ehi.. Miwaldini, Imiindrovie... Grazie.